Sarà la sessantesima edizione quella del 2022 per la fiera dell'agricoltura di Lanciano, un traguardo importante per una fiera diventata una tradizione per gli addetti ai lavori. Cresciuta nel tempo, quest'anno la fiera nonostante due anni difficili chiude il bilancio con un segno più. Le notate di quest'anno ci saranno delle macchine telecomandate sempre più da lontano, soprattutto per cercare di dare i cosiddetti antigrittogamici a una certa distanza e che possono naturalmente sentire con dei sensori anche che tipo di prodotto dare, faccio un esempio, al vigneto o ai cereali. Quest'anno avremo per esempio una convennistica, manco farla apposta, molto attuale e dedicata sui cereali. E' un periodo purtroppo di guerra, con la guerra del grano che c'è in giro, per cui non è una cosa semplice. Parliamo del bilancio positivo che si registra quest'anno, un risultato importante per un mandato per lei che è agli sgoccioli. Sì, noi abbiamo avuto quasi sempre, nei dieci anni in cui sono stato presidente, bilanci positivi. L'anno scorso naturalmente nel 2020 non era possibile perché la fiera è stata chiusa, quindi non potevamo fare le attività e quindi il personale era in cassa integrazione. Ma quest'anno siamo tornati ad essere positivi, anche se di poco, e di buon auspicio anche per i soci che sono insieme a noi. Con questa edizione che si svolgerà dal 20 al 22 maggio ripartono anche i convegni. Saranno due al giorno e riguarderanno temi come il futuro per il settore cerearicolo e l'innovazione per i vigneti e gli oliveti. Soffre in Abruzzo il settore agricolo a causa degli aumenti delle materie prime, ma l'agricoltura rappresenta comunque un comparto significativo per la regione. Una sessantesima edizione per un settore, un comparto che soffre, ma comunque per il quale la regione crede sempre. Sicuramente sì, la fiera di Lanciano comunque è storicamente il punto in cui domande e offerte si incontrano, ma storicamente, l'ho detto prima nella competenza stampa, è il luogo dove tutto il mondo agricolo abruzzese va, anche se non ha niente da comprare o da vendere, sicuramente rappresenta nella storia, nella cultura agricola abruzzese un punto importante di arrivo. Sessantesima edizione, a testimonianza del valore che ha questa fiera, il motto di oggi è fiorisce il futuro, quindi significa che dopo 60 anni sicuramente ci saranno tante altre edizioni della fiera di Lanciano, fiera, padiglione fieristico che sicuramente è oramai un po' vetusto e su cui si sta ragionando anche come regione Abruzzo per vedere di renderla al passo coi tempi.